Io sono Eugenio Gianni, come presidente della società dantesca, innanzitutto saluto tutti voi. Devo dire che è il clou quella di oggi di un impegno che come società dantesca italiano abbiamo prosto in coordinamento con il comitato che a livello nazionale è stato guidato dal ministro dei beni culturali Franceschini per ricordare degnamente i 750 anni dalla nascita di Dante. Dicevo è il clou perché una personalità come Michele Placido onora la città di Firenze e onora la società dantesca italiana per aver accettato questo incarico. Peraltro voglio ricordare, perché ci tengo in modo particolare, che il contesto in cui Placido è accettato questa occasione è anche per il lavoro che il nostro uomo dei grandi eventi da sempre della società dantesca Stefano Massini ha impostato. Siccome nel frattempo Stefano è diventato il direttore del piccolo teatro a Milano, quindi un incarico prestigiosissimo, io voglio un applauso per lui. Stefano con Riccardo Bruscalli ha curato il film che qualcuno di voi avrà visto su di pregevolissima fattura. È insomma un fiorentino che si sta davvero facendo valere e lo merita perché è uno straordinario talento che viene e si è formato in questa città. Devo dire che i 750 anni della nascita di Dante sono mai come in giornate come quella di oggi appropriati. Perché? E infatti Placido è qui in questa fascia di giorni. Perché Dante nacque a Firenze sicuramente 750 anni fa in una data che non è stabilita perché sappiamo che la nazio memoria che in questa città lo colpì dopo la condanna a morte del 10 marzo del 1302 ha portato a distruggere molti materiali che riguardavano un personaggio pubblico come Dante che dal 15 di giugno al 15 d'agosto del 1300 fu anche priore della città. E quindi il giorno esatto noi lo sappiamo lo ricostruiamo dai suoi scritti. Sappiamo dalla vita nuova che è stato che è nato nel segno dei gemelli quindi sicuramente dal 21 di maggio al 21 di giugno ma in altro scritto egli ci fa presente che è nato prima della battaglia di Campaldino a cui lui partecipò come milite e che visse in prima persona la battaglia con cui Guelfi Ghibellini alle pendici del castello di Poppi che tanto era assomigliante e quindi da modello al nostro Palazzo Vecchio si sviluppò l'11 di giugno del 1289. Quindi Dante è nato in uno di questi 20 giorni dal 21 di maggio all'11 di giugno del 1265 e quindi sappiamo che uno di questi 20 giorni compreso il nostro 24 maggio potrebbe essere stato il suo compleanno. Devo dire che abbiamo vissuto dei momenti molto emozionanti in queste manifestazioni che come società dantesca abbiamo organizzato. Penso alle lexio magistralis nel bel San Giovanni, nel battistero che fu sicuramente il battistero in cui Dante fu battezzato e da questo suo amore i continui riferimenti, i plurimi riferimenti nella Divina Commedia. Il bel San Giovanni, l'ultima delle lexio magistralis, il Cardinal Ravasi il 19 di maggio, straordinaria. Ma abbiamo vissuto momenti come quello del 14 di maggio in cui abbiamo rievocato il corteo delle 173 città italiane che accompagnarono il re 150 anni fa quando Firenze diventava capitale in Santa Croce per lo scoprimento della statua dedicata a Dante che fu allora l'omaggio delle città italiane alla nuova capitale Firenze. Una statua tanto familiare a Roberto Benigni nelle sue letture in piazza Santa Croce. E oggi è davvero questa occasione. Nella chiesa che è la chiesa delle arti, nella chiesa che dal 26 di luglio del 1343 è la chiesa in cui Sant'Anna è stata individuata perché è la patrona il 26 di luglio, copatrona di Firenze perché nella rivolta dei fiorentini al Duca di Atene, Gualtieri di Brienne, l'ultimo dei dittatori fu quel giorno l'inizio di una stagione che fino alla Signoria Medicea consegnò Firenze al governo liberale delle 21 arti e mestieri. Ecco che le letture d'Antis da tempo immemorabile, ovvero dai momenti in cui alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, a leggere Dante erano Gabriele D'Annunzio, Giosuè Carducci, Pirandello, Pascoli, per citare persone che hanno letto Dante nello stesso modo in cui oggi ci omaggerà del suo straordinario talento Michele Placido. Ecco che noi rinnoviamo e abbiamo voluto rinnovare quella tradizione dei grandi letterati italiani di fine Ottocento, inizio Novecento quando il culto di Dante diventa esiziale anche per noi perché diventa la base della lingua italiana e nel 1888 viene fondata la società dantesca che entrerà nel Palazzo dell'Arte della Lana qui davanti dal 1904 e quindi è evidente da allora, avendo una casa propria, tutto il lavoro che portò all'edizione nazionale della Divina Commedia sarà fatto appunto nel Palazzo dell'Arte della Lana. Quindi con l'occasione di oggi per Michele Placido noi torniamo alla radice che ha generato la società dantesca appunto sulla scia delle grandi personalità letterarie che prima ho indicato. Proprio per questo, prima di lasciare la parola al nostro Riccardo Bruscagli, già preside di lettere, figura eminente della società dantesca che accompagnerà l'occasione con cui Michele Placido oggi omaggerà i 750 anni della nascita di Dante, mi permetto semplicemente di consegnare a Michele Placido il conio ufficiale, la medaglia che ricorda i 750 anni della nascita di Dante e il volume del Botticelli che volle illustrare la Divina Commedia proprio attraverso un amore, una passione, un coinvolgimento per l'illustre concittadino con i suoi quadri che sono riprodotti in questo bel volume. Grazie. Canto di me, avete visto che abbiamo voluto intitolare questa serata di letture dantesche che saranno costruite sul filo delle emergenze biografiche più spiccate della Divina Commedia, i luoghi del poema in cui più particolarmente Dante canta di sé e del proprio destino. E cominceremo dal luogo in cui quella vita e quel destino denunciano la loro radice astrale, ovvero dall'ingresso di Dante nella sua costellazione di nascita, quella appunto dei gemelli. Nel canto 22 del Paradiso, Dante ha ormai attraversato tutte le sette sfere celesti che ruotano intorno al nostro pianeta. Adesso egli approva nel cielo cosiddetto delle stelle fisse, la grande sfera che porta incastonati tutti gli astri del firmamento e fra essi appunto le costellazioni dello Zodiaco. Ed entrando in questa ultima sfera del mondo fisico, così come egli lo conosce, così come glielo descrive la cosmologia del suo tempo, Dante sceglie di approdare, per così dire, proprio nella sua costellazione di nascita quella dei gemelli. Come sentiremo, o gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto qual che si sia il mio ingegno. Ora, il fatto che Dante riconosca tutto qual che si sia il suo ingegno dal proprio segno zodiacale può sembrare a noi, a noi lettori di oggi, il risibile residuo di una antica superstizione. Ma la fede di Dante nell'influsso delle stelle non ha niente a che fare né con la demenza degli odierni oroscopi, né con le teorie fatalistiche che infestano più di una scuola di pensiero del suo tempo e che egli combatte, come ricorderemo, in vari luoghi della commedia. Basta ricordare il grande discorso di Marco Lombardo sul libero arbitrio nel sedicesimo del Purgatorio. Per Dante la dipendenza dalle stelle si traduce, piuttosto direi, in un senso di appartenenza cosmica, nella percezione che il nostro esistere qui, sulla Terra, in ogni momento, è al centro di una meccanica celeste, ovvero che noi non siamo sperduti casualmente in un universo indifferente, ma che noi siamo, come forse oggi diremmo, perpetualmente connessi. Siamo sempre in relazione col movimento che, avviato dal primo mobile, distribuisce i suoi influssi, fin qui dove ora noi siamo, nel piccolo globo, secondo Dante, al centro dell'universo, dove si consumano le nostre travagliate biografie. Entrando nei suoi gemelli, Dante si trova adesso anche in bilico, va ricordato, fra due esperienze diverse del Paradiso. Fin qui, cominciando dal cielo della Luna e poi via via, attraverso il cielo di Mercurio, di Venere, del Sole, di Marte, di Giove, di Saturno, egli ha incontrato gruppi di anime, di beati, ciascuno nel cielo, dal quale anch'essi hanno riportato gli influssi primari che hanno modellato le loro esistenze. Ricorderete, Dante ha incontrato gli spiriti amanti nel cielo di Venere, i guerrieri nel cielo di Marte e così via. Ma quello che va sempre ricordato è che quello non era, non è il Paradiso. Non si insiste mai abbastanza sul fatto che nell'ascesa di sfera in sfera e di pianeta in pianeta, Dante non è in Paradiso. Quello che egli, da privilegiato pellegrino com'è, sperimenta nella sua ascesa astrale è soltanto una rappresentazione, un teatro virtuale del Paradiso. Perché quelle anime che lui incontra non stanno in quei cieli. Quelle anime, tutte le anime, stanno nell'Empireo, al cospetto di Dio, che esse tutte contemplano faccia a faccia, simultaneamente, sia pure con gradi diversi di beatitudine e di perfezione. Dall'Empireo le anime sono scese via via nelle diverse sfere, apposta, per parlare con Dante, cioè per frammentare nel tempo e nello spazio e quindi per rendere raccontabile un'esperienza che di per sé raccontabile non è, cioè quella del Paradiso come visione diretta di Dio. Forse per questo adesso, proprio per marcare questo spartiacco e cruciale del grande viaggio, questo approdo di questa prima parte del grande viaggio, Beatrice invita Dante a guardare, sentiremo, sotto gli piedi, essa dice, a guardare in giù, dall'altezza vertiginosa del cielo delle stelle fisse, verso il cosmo già attraversato e adesso vuoto delle anime che Dante vi ha incontrato cielo per cielo, restituito, per così dire, alla sua nudità fisica, non più teatro del Paradiso, ma sistema planetario, semplicemente. E Dante guarda. E sentiremo, riconosce con chiarezza di cielo in cielo lo spazio attraversato, sino alla Terra, al centro dell'universo, che egli inchioda al suo dramma di peccato e di sangue con un verso memorabile, la iuola che ci fa tanto feroci. Un astronomo del nostro tempo, Carl Sagan, di fronte ad una immagine del nostro pianeta, ripresa dalla sonda Voyager 1, e lui dice, a moat of dust suspended in a sunbeam, un granello di polvere sospeso in un raggio di sole, ha commentato, look again at that dot, that's here, that's home, that's us. Guarda ancora a quel granello di polvere. Quello è qui, quello è casa nostra, quello è noi. Ed è impressionante, io credo, come Dante abbia anticipato lo sguardo della nostra umanità di oggi, lo sguardo della nostra specie da fuori del nostro spazio sulla Terra che abitiamo. Ma il suo sentimento è più duro e meno commosso di quello dell'astronomo contemporaneo. Quella casa comune gli appare come un pianeta insalvabile, da cui prendere congedo, perché è su quel pianeta che la sua personale storia, la sua biografia amara e deludente, ha preso forma. Solo guardando in alto per Dante, quella storia potrà trovare un riscatto. E allora l'ultimo verso di questo canto, poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli. Dante nella Costellazione dei Gemelli O gloriose stelle, o lume pregno di gran virtù, dal quale io riconosco tutto, qualche si sia il mio ingegno. Con voi nasceva e sascondeva vosco quelli che è padre, d'ogni immortal vita, quando io sentii di prima l'aere tosco. E poi, quando mi fu grazia allargita ad entrare nell'alta rota che vi gira, la vostra region mi fu sortita. A voi, divotamente ora, sospira l'anima mia per acquistare virtute al passo forte che a sé la tira. Tu sei si presso all'ultima salute, cominciò Beatrice, che tu devi aver le luci tue chiare, acute, e però prima che tu, piuti in lei, rimira in giù. E vedi quanto mondo sotto li piedi già esserti fei, sicché il tuo cor, quantunque può, giocondo, s'appresenti alla turba trionfante che lieta avviene per questo etera tondo. Col viso ritornai per tutte quante le sette spere, e vidi questo globo, tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante. E quel consiglio per miglior approbo che l'ha per meno, e chi ad altro pensa chiamarsi puote veramente probo. Vidi la figlia di latona incensa, senza quell'ombra che mi fu cagione, perché già la credetti rara e densa, l'aspetto del tuo nato iperione, qui vi sostenni e vidi come si muove circa e vicino a lui, Maia e Dione, e qual ma parve il temperar di Giove tra il padre e il figlio. E quindi mi fu chiaro il variar che fanno di lor dove, e tutti e sette mi dimostraro quanto sono grandi e quanto sono veloci, e come sono indistante riparo. L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendomi io con gli eterni gemelli, tutta ma parve, da colli alle foci, poscia, rivolsi gli occhi agli occhi belli. Il canto di sé di Dante comincia fin dall'apertura della commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita me ritrovai per una selva oscura. Noi siamo così abituati a questo esordio, divenuto quasi proverbiale, che non ci rendiamo conto di quanto sia sorprendente e rivoluzionario. I grandi poemi che Dante conosceva e intendeva emulare, da quelli di Stazio, di Lucano, dall'eneide dell'idolatrato Virgilio, non cominciano affatto così. Cominciano con una autopresentazione del poeta, una ordinata introduzione dell'argomento, una appropriata invocazione alle muse o ad Apollo medesimo, per riceverne assistenza nell'arda impresa poetica che si va a iniziare. E così anche Dante comincerà il purgatorio, così comincerà il paradiso. E con una invocazione alle muse comincia anche il secondo, secondo canto dell'inferno. Ma non questo primo canto, non la commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. È un esordio che parte d'impeto, come una fucilata. Noi siamo sospinti con violenza già dentro il racconto e non sappiamo, non ci è stato detto, né chi sia il narratore, né dove ci sta portando, né che tipo di racconto ci aspetta. Siamo solo risucchiati in una situazione profondamente ansiogena, non a caso quella degli spaventi primari, il buio, la solitudine, lo smarrimento. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Non cominciano così anche le fiabe, trovarsi sperduti in un bosco di notte al buio. Thomas Eliot ha scritto che Dante è un poeta semplice, a simple poet. Dante è un poeta semplice. Ma Eliot voleva dire che Dante è un poeta semplice perché parla per immagini. Immagini che, anche senza essere grandi esperti di allegoria, ogni lettore intuisce, capisce che vogliono dire anche qualche altra cosa rispetto a quello che dicono apertamente. Ogni lettore capisce e intuisce che sotto la superficie verbale di questa selva oscura, di questo spavento notturno, ci sta qualcosa d'altro. Ci sta l'inizio di una storia personale che dal disorientamento, dalla disperazione di non saper uscire dal buio della crisi, ci porterà ad una lunga e faticosa ripresa di coscienza, alla ricostruzione né più né meno di un ego adesso frantumato e devastato. Ma quell'ego, quel soggetto in crisi, si capisce subito che non è soltanto quello del poeta narratore. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Basta la frizione fra quel nostra e quel mi per farci capire che quella che sta cominciando è, certo, la storia di un individuo colto nella specificità del suo tempo, della sua vicenda umana, della sua lingua, ma è anche una storia nostra. Cantare di sé, per Dante, vuol dire anche sempre cantare di tutti noi. Una delle esercitazioni che ci faceva per andare dietro a quello che hai appena detto, Orazio Costa era quella che queste parole venissero da un sonno notturno in cui improvvisamente ci appare a ognuno di noi il vero nostro stato interiore che durante il giorno non riusciamo più a percepire. Perché lo sappiamo? Soprattutto oggi, i rumori, il traffico, le problematiche di un mondo troppo agitato per capire poi chi siamo, a che punto sono della mia vita. Giusto quella frizione nel mezzo, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanta e amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai dirò delle altre cose. Chi vo scorte? Io non so ben ridir per come ventrai tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Dante costruisce la sua autobiografia nella Commedia essenzialmente intorno alla mitologia del suo esilio, al suo essere, come si firma nelle lettere, exul immeritus, esule immeritevole. Eppure il suo, a veder bene, esilio proprio non fu. E ci fu all'inizio del gennaio del 1302 una semplice citazione in tribunale per il reato di Baracterias, vale la pena di rileggere il verbale, Baracterias lucra illicita iniquas extortiones. Come noto, Dante, sulla via del ritorno dall'ambasceria romana, a quella citazione non si presentò. E non si presentò neanche alla seconda. Et non venerunt, disse il verbale del processo riferendosi a lui e agli altri imputati. A questo punto, certo, scatta, scattò la condanna in data, come si ricordava prima, 10 di marzo. Il bando dai confini del comune e, se catturato entro quei confini, il rogo, Comburatur sicquod moriatur. Ma è da notare che la vicenda non finisce, non finì qui. Nel 1311 e nel 1315, in due diverse amnistie, i confinati, come Dante, ebbero la possibilità di fare ritorno in città. E fu Dante che non volle accettare l'amnistia. La ragione è molto semplice. Chi accetta la grazia ammette il reato. E Dante non volle mai tornare a Firenze come un barattiere pentito e perdonato dal comune. Non est ec via redeundi in patria, egli scrive all'amico fiorentino, non è questa la strada per tornare in patria. Quello che è strano, però, è che la nobiltà e l'alta dignità di questa rinuncia non trovano luogo nella commedia. Nella commedia Dante preferisce stilizzare la sua vicenda, raffigurandosi vittima di un intrigo di malvagi, raffigurando il suo esilio come il prodotto finale, fatale, di una corruzione fiorentina irreparabile, di cui lui diventa l'innocente capro espiatorio. Questa sua condizione di vittima eroica del male, egli la distilla a poco a poco attraverso la tecnica delle profezie post eventum, dosando con calcolata precisione la suspense delle rivelazioni che via via scoprono, prima frammentariamente e poi sempre con maggiore chiarezza, qual è il destino che lo aspetta. Qui sentiremo Ciacco, il goloso del canto sesto dell'inferno, ad ombrare le vicende dei partiti, da cui anche Dante uscirà stritolato, ma ancora non si fa accenno del suo personale coinvolgimento in questi avvenimenti. Poi sarà affarinata, sentiremo, che col dispetto maligno dell'avversario politico alluderà misteriosamente a quanto sia difficile l'arte del ritorno in patria una volta banditi, e gli dice non passeranno cinquanta mesi che tu saprai quanto quell'arte pesa. Ma infine cacciaguida l'antenato di Dante incontrato nel cielo di Marte che, senza più velami allusivi, ma, come dice Dante stesso, per chiare parole e con preciso latin, mette davanti al poeta un fatto di sventura, ormai declinato in un tempo futuro di inesorabile nettezza. Tu lascerai ogni cosa di letta più caramente. Sventura, ma anche grandezza, responsabilità di testimonianza morale, immortalità della parola poetica. Mai, come nell'episodio di Cacciaguida, si fa chiaro come vi sia una conseguenza di quell'esilio ingiusto, ormai altrettanto fatale, altrettanto cioè fatalmente incardinata in quel destino. E questa conseguenza è, sarà, né più né meno, la Divina Commedia. O tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, Riconoscimi, se sai, tu fosti prima che io disfatto fatto, e io a lui l'angoscia che tu hai forse ti tira fuor della mia mente, sì che non par chi ti vedessi mai, ma dimmi chi tu sei che in sì dolente loco si è messo, e hai sì fatta pena che s'altra è maggio nulla è sì spiacente. Ed egli a me, la tua città, che è piena di invidia sì che già trabocca il sacco, seco mi tenne, in la vita serena, voi cittadini mi chiamaste ciacco che, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco, e io a anima trista non sono sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa, e più non fè parola. Io le risposi, ciacco, il tuo affanno mi pesa sì che a lagrimarmi in vita, ma dimmi, se tu sai, a che verranno i cittadini della città partita? S'alcun ve giusto, e dimmi la cagione, perché la tanta discordia ha salita, e quelli a me. Dopo lunga tencione verranno al sangue, e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi, appresso, convien che questa caggia, in fra tre soli, e che l'altra sormonti con la forza di tal che te stè piaggia. Alte terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che naonti. Giusti? Sono due, e non vi sono intesi. Superbia, invidia, avarizia, sono le tre faville che hanno i cuori accesi. E qui puose fine all'aggrimabile suono. E io a lui, ancor vò che mi insegni, e che di più parlar mi facci dono. Farinata e il teghiaio, che fuor si degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo, Mosca e gli altri, che ben far puosor l'ingegni. Dimmi, dove sono? Fa' che io li conosca. E che grandisio mi stringe di sapere se il cielo li addolcia o lo inferno li attosca. E quelli, ehi, son tra le anime più nere, e diverse colpe giù li grava al fondo. Se tanto scendi, là li potrai vedere. Ma, quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti che la mente altrui mi rechi. Più non ti dico, e più non ti rispondo. Ehi, sì, io vado. Farinata. Farinata. O tosco, che per la città del fuoco vivo te invai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobile patria natio, alla quale forse fui troppo bolesto. Subitamente questo suono uscìo d'una dell'arche. Però mi accostai, temendo un poco più al duca mio. Ed el mi disse, volgiti, che fai? Vedi la, farinata, che sei dritto dalla cintola in su. Tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto e del Sergea, col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a grande spitto, e l'animose man del duca e pronte mi pinse tra le sepolture a lui dicendo, «Le parole tue si inconte». Com'io al piede alla sua tomba fui, guardòmi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi domandò, «Chi fuorli maggiori tui?» Io, che era d'ubbidire desideroso, non gliel ce l'hai. Ma tutto, tutto gliela persi. Ondèi levò le ciglia un poco in suso, poi disse, «Fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Sei fur cacciati e ai tornare d'ogni parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte». «Sellian quell'arte» disse, «Male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto, ma non cinquanta volte fiare accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi perché quel popolo e siempio incontra i miei in ciascuna sua legge, ondio a lui lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazione fa far nel nostro tempio». «Poiché ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fui io sol, disse, e ne certo senza cagion, con gli altri sarei mosso, ma fui io solo. Là dove sofferto fu per ciascun di torrevia Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto». «E qui abbiamo Caccia Guida, paradiso naturalmente. La contingenza che fuor del quaderno della vostra materia non si stende tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità, però, quindi, non prende se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. Da indi, siccome viene ad orecchie a dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti si apparecchia. «Qual si partì, o Ippolito d'Atene, per la spietata e perfida noverca, tal di Fiorenza, partir ti convene?» «Questo si vuole e questo già si cerca e tosto verrà fatto a chi ciò pensa. Là dove è Cristo tutto si merca. La colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa di letta più caramente e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria setta. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui e come è duro calle lo scendere e salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contro a te. Ma poco appresso è là, non tu ne avrà rossa la tempia di sua bestialità il suo processo farà la prova sì che a te fia bello averti fatta parte per te stesso». E infine Dante, ho detto, è Dante che rinuncia a tornare a Firenze. non ci vuole tornare a quei patti non come il rituale per gli amnistiati prevedeva vestito di sacco con una mitria derisoria in capo e la candela in mano a pagare l'obolo in battistero. Ma a ritornare a Firenze probabilmente Dante non rinunciò mai veramente. E la città da cui era partito per la disgraziata ambasceria romana senza pensare che non ci avrebbe mai più rimesso piede rimane, lo si capisce, ben fissa nei suoi ricordi, nei suoi sogni, nei suoi rimpianti di esule. Dante non rinunciò mai in fondo all'idea di tornare a quel battistero che stava per essere sormontato dalle altre grandi macchine della più ambiziosa e ricca città dell'Occidente cristiano, ma che rimaneva a quel battistero il cuore della città che gli aveva vissuto. E lì, in quel battistero, come sentiremo nell'esordio del canto 25 del Paradiso, egli sospira di rimettere piede nonostante tutto, ma non col sacco e la candela di Penitente, ma ormai riconosciuto come grande poeta, a prendere il cappello, come gli disse, cioè la sua ghirlanda dall'oro. Non in Campidoglio, a Roma, come poi, brigando assai, riuscirà al Petrarca, ma nel suo bel San Giovanni, nel cuore di quella città che non si era accorta ancora che uno dei suoi figli stava trasformando la sua parlata, la sua parlata di strada, quella, come dice Dante stesso, delle muliercule, delle donnette al mercato, in una grande lingua di poesia, nella lingua di una nuova nazione e in quella lingua che è ancora la nostra. Il sogno di tornare a Firenze semmai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra sì che m'ha fatto per molti anni macro vincere vinca la crudeltà che fuor mi serra del bello vile o vi dormì agnello nemico ai lupi che gli danno guerra. Con altra voce o mai con altro vello ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. adesso vi permetto di prendere una licenza che mi è stata data è un omaggio anche a mia sorella mia sorella che è una insegnante in pensione una professoressa mi ha insegnato mi ha insegnato quando io ero piccolo più piccolo di lei Dante naturalmente come donna mi spiegò il canto di Paolo e Francesca e io probabilmente devo a mia sorella il fatto che poi come dire recitare il verso italiano dal padre che ha creato appunto il verso nel più alto nel modo più alto con gli anni poi con Orazio Costa quando andai in accademia lui mi rimproverava di non essere ancora di non aver maturato come si diceva insomma nel modo da lui lui aveva questo metodo questa metodologia che era applicava la parola al movimento corporeo per far sì che l'emozione che si nasconde fra i versi insomma venisse fuori con grazie anche alla capacità del cervello di trasmettere al fisico il cervello e il cuore quell'emozione giusta per cui anche il corpo partecipasse alla dizione vabbè in poche parole i primi due versi per esempio ovviamente non la racconto tutta ma quali colombe dal dizio chiamate ma abbiamo passato veramente settimane settimane quali colombe perché lui ovviamente vede tutti questi dannati no Dante famosi straordinariamente famosi da Achille a Semiramis a Clopatras ma viene colpito questi due ragazzi che sono due ragazzi che sono abbracciati sono gli unici che si tengono stretti e volano in questo cielo, nero cielo, in questo inferno, in questo pieno di vento che li maltratta lì. Però loro, mentre gli altri urlano, sono lì spauriti, straordinariamente avvinti, e pur lì, in quel posto, dove non è concesso nessuna pieta, se nessuna, mi permette questo minimo, io non sono valutamente un professore, ma è il fatto che mi meravigliò all'epoca e chiesi spiegazione a mia sorella, come mai l'uomo, zitto, non parla, non usa parola, la donna invece racconta. Per cui ho detto, oddio, ma Dante, in quel momento, è più in Francesca, è più donna, scusate l'espressione, Dante, da uomo, si innesta in lei, nella donna più che nell'uomo, l'uomo non parla. Quali colombe? A lei, è lei che fa diventare colomba anche lui, secondo me. Quali colombe? Dal disio chiamate, collali, alzate, ferme, al dolce nido, dolce nell'inferno, perché dolce quel nido nell'inferno. Al dolce nido, vegnon per l'aer dal voler, portate, cotali, uscir dalla schiera, ovedido a noi venendo, per l'aer maligno, si forte fu l'affettuoso grido. Oh, eccola a lei. Oh, animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso noi, cotignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso, di quel che udire e che parlar vi piace. Noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siete la terra dove nata fui, sulla marina ove il po discende per aver pace, coi seguaci sui. Amor calcor gentil, ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, cannullo amato, amare perdonami, prese del costui, piacer si forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, che inattende chi vita ci spense. Ecco queste parole, da loro, ci fuor porte. E quando io intesi quelle anime offense, chi n'ha il viso? Tanto il teni basso, finché il poeta disse, che pensai? Oh lasso, quanti pensieri, quanto dolce disio, meno costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi all'ora e parla io, Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristopio, ma dimmi al tempo dei dolci sospiri, a che, come, concedette amore, che conoscesse i dubbiosi desiri. E della me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice e della miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscerla prima, radice del nostro amore, tu hai. Io dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto. Di l'ancillotto come amor lo strinse. Soli eravamo, senza alcun sospetto. E per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il disiato riso essere baciato da tanto amante questi che mai da me non vi ha diviso. la bocca mi paciò tutta tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse da quel giorno a più non vi leggemmo avanti. E mentre che l'uno spirito questo disse l'altro piangea sicché di pietà e io venni men così com'è morisse e caddi come corpo morto cade. Applausi 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 grazie, grazie a tutti grazie, grazie, viva Dante viva Dante, viva Dante viva Firenze mi avete fatto il dono più bello della mia vita ve lo dirò anche a mia sorella grazie, grazie, grazie viva Dante